me la tengo polimorf contro l'occhio si sto a sentire il mio polimorf stavolta quando ti ha detto chi è andrea difficile ormai tutti sanno chi è andrea perchè se è cubo è forte meteorema è molto più forte use lui è forte contro aggro questa fa schifo contro mamma zilex è forte contro aggro cazzo allora se io trovo use spella 5 so con te va bene fatto che ha una bella mano contro aggro ok ok va bene probabilmente polimorf sarebbe stato un buon kippa contro ivan anche non solo contro cubo però va bene teoricamente il match up per noi è abbastanza fattibile abbastanza fattibile sarebbe bello tantissimo prendere anche una una voodoo non sarebbe assolutamente male passo allora turno 3 chiaramente andiamo di eeeh tar creeper lui chiaramente risponderà con gigante e io sarò così bravo ad obbeccare polimorf forse no forse lui giocare il drake non il gigante ok burdolla eccolo qua vedete lo sa forte ah vorrei bene secondo me comunque lui gioca drake non gioca gigante cioè noi siamo un control mage abbiamo solo rimozioni abbiamo eeeh però effettivamente potrebbe farlo a me rode il culo giocare il coin per un gigante rode parecchio il culo ma ero da dirlo perchè lui che fa gioca gigante hita col 3-2 io ho due scelte per evitare la flame l'ha lasciato la vai su matti porco dios sti cazzo dei nomi la e il fire oh signor what what man wait why grazie prego ok non capisco appena lo so giocato sono un po' pazzo eeeh che mi può fare di t5 che mi da fastidio in realtà niente raga io non voglio giocare il coin molto aggressivo eh lui molto aggressivo con sto spellbreaker molto aggressivo con sto spellbreaker lui è moderata si capisce niente qua sto gioco raga abbiamo una buona spell a 5 secondo me eh sembra molto a me ti piace? si a me piace parecchio lo spell a 5 qua non credo che abbia una value maggiore eeeh anche perchè abbiamo tante possibilità di sorrollare con ma vabbè che poi che te lo dica fa subito no giustamente non sempre io quindi fine va bene eeeh abbiamo soluzioni al drago se fa un turno possibile facciamo coin a stromante forse forse no devo vedere eh se invece mi gioca eeeh eeeh allora mi gioca Drey wow wow man e vabbè 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 eh è troppo forte ha ha guarda che cosa forte mi da è nelle mie mani eh perchè tu parti con le rispettative alte Matti quello è il tuo problema credo quello ti fotte sei andato da discord sei andato da discord Matti eh no pensavo che fosse andato hai banato io non sono andato io via da discord hai banato io hai banato io che vuoi ci vuoi puoi riprovare io sto avvio tatillo tu lo sai riconosci sono avvelenato in questo momento io avvelenato io sono assore non mi hai mangiato avanti così perchè sto avvelenato eh se si taglia la vienesce verde sto avvelenato sto sto incazzato nero quando c'erano queste cose in sto gioco veramente non è possibile cioè non è possibile veramente dai da un pool di 25 carte forse non lo so cioè 7 mana 3 3 9 mana 3 3 vabbè dai a sto punto preferisco rollare la puttana dell'astromante quando c'ho quarto carte in mano è meglio è meglio e che cazzo e te la devi scherzare vabbè c'ho una polymorph e c'ho due blizzard due meteore e un flame strike la giocata qua è easy vediamo quanto mi devo incazzare oggi che palle guarda veramente è queste cose mi fanno girare i coglioni in maniera clamorosa veramente tantissimo tantissimo perchè vedi mi costringono a fare queste giocate che invece con un 7 mana non avrei mai fatto mai fatto però guarda oh un turno non mi gioco a niente bello mio cioè non mi gioco a lice per forza gioco a qualsiasi altra cosa fammi aggredi un turno non dico tanto mi sa che valore di astromante è più che lice lo sai? ok ok io non lo so non gli vorrei far fare le xrdk cazzo l'unico modo che non c'ho ora glielo posso far fare le xrdk jaina? wow man sembra forte jaina però non c'ho rimozione di massa vabbè vabbè troppo forte jaina non è il potere che bisogna tenere cioè non c'ho rimozione di massa per il suo gultana però è anche vero che c'ho la forza del miro power quindi sta sarebbe bello dopo decana flamestrike ho ucciso la partita flamestrike meteora chiudo la partita con tutto qua mi serve una spell ok non c'ha gultano questo è buono questo è meno buono una unità precisica perfezione per non c'è unità e ci curiamo amore ci curiamo non è per niente facile non è per niente facile senza grazie buono anch'io non credo in me però mi servono mi servono le meteore oppure buono si no 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 è male è buono ci sta ci sta va a farci no lui deve chiaramente va va deve andare a trovare il suo gul dan e io non posso fargli giocare gul dan però vedi come faccio a non fare giocare gul dan che è relativamente difficile e vabbè caro dai potete andare peggio in realtà caro non so in che modo potete andare peggio però vabbè sei mio figlio di te che potete andare peggio mi figlio di te ora va in famiglia pure un bel deck un bel dro che spingerebbe tanto tu dada prima o poi doveva uscire vabbè ci sta ci sta comunque per me va c'è nel senso il ping sul 24 ma vabbè baron ghedon vabbè perfetto grazie caro baron ghedon poteva andare meglio però sì perché però blizzard pure buona cazzo va bene allora partiamo gastro avanti vediamo quello che succede secondo me è solo a merda messe non però forse a cinque mani c'è qualcosa di migliore lo schifo lo schifo esce è meglio questa del t3 tatillo la sciafata di da di la sciafata di la sciafata di bassi aspettativi ma che bassi aspettativi la sciafata meglio questa del t3 molto meglio questa del t3 c'ha 12 danni 15 danni c'ha 21 danni lui con doppio il fire che c'è in mano pensa al povero boometta che appena si è bussato la bestia e baron ghedon ci refulla questo match up è fondamentale refullarsi avessi avuto flamestrike sarebbe stata la mia giocata chiaramente cioè gli avevo 8 anni da borda forse oppure avrei comunque fatto la stromante perché attualmente se lui fa flamestrike tipo lui che potrebbe fa mario lui potrebbe fare flamestrike defile però no perché se tra le cose da solo potrebbe fare il file defile ma perderebbe 4 4 alcun tipo di senso la giocata il problema sai qual è in realtà il problema è che alcuni deck giocano doppio bomber ora finché è uno lo risolvo facilmente poi morfuto quando iniziano diventa due la cosa si complica non poco ok vai in trade mi piace mi piace mi piace mi piace ma così caro così no così non vince la partita no così dura partiamo la vince ma non lo sa faccio fa abile topico fa schifo vabbè devi guardare le cose dal lato positivo pulisci la board riparte un altro 36 fa schifo meteor colisci la board riparte un certo che è il tempo scorre e il tempo scorre ... ... ... ... ... ho fatto per non dar troppo vaglio il fire mamma mia che schifo disintegrazione tesoro dai puoi far sicuramente di meglio però noi chiediamo troppo puoi far sicuramente di meglio lice caro secondo me puoi far molto di meglio e comunque il fire beh era abbastanza scontato il fire va bene va bene va bene va bene chiedino che dino sì sì che dino questo è chiaramente spelson non può giocare comunque lice ok abbiamo ancora artefice nel deck noi interiamo sei tentato sì perché tanto lì che servitori c'è un doppia meteo bravo giocare la milma tanto non lo so in realtà non lo so non lo so invece abbiamo ancora già una line cioè in realtà noi c'è cosa fa paura a noi il doppio boi l'altro bomber per il resto non penso che lui abbia cose ancora grosse c'ho tre carte left rega io lo gioco questo praticamente ci cura di nove no giusto eh tank a little power che so tre quindi sei più tre no ah ok eh beh ok grazie porta troia a meno che c'è cura di nove non è male a meno che cosa ha giocato già doppio il fire ha giocato ma di solito tutta ne esci non c'è una meno che qua con gianna live non chiuso la partita comunque ma che gioca a te gg rega è andato in confusione allora a meno che lui non sbaglia grazie mille sconvolts grazie mille caro per il settimo mese dimmi amore ma la piedina la vuoi ora? la piedina ora no perché penso a quello che devo fare dopo quindi non ho fame devo essere abbastanza onesto con te grazie caro ti voglio bene anch'io grazie anche a faxados per il sub con la tier 1 attenzione e grazie anche al lupo lujans ma mattia per faxados si mi ha scritto il messaggio perché non è riuscito a mettere dice sera caro vorrei ringraziarla per essere uno streamer trasparente che seguo per la persona e non per il gioco grazie caro questo guardo molto hs amo le sue live mix tra direttamento e competitività ci sta infatti stasera per la prima volta ho toccato il legend con il wolfrist 3914 amo il suo staff no vabbè tutti hanno le difetti caro l'accetto compreso Igo e il suo modo di fare grazie ancora grazie a te caro grazie a te grazie mille per il supporto beh diciamo che la partita è abbastanza vinta questo caro non basterà lo sai a meno che no non basta ah cazzo il guest è molto forte qua molto forte il guest qua e lì ci l'ho fatto che meraviglia ma raga il control match è troppo forte sarà sarà che io so di parte ma il control match è troppo forte un po' lento pochetto l'è però è veramente forte ball control e qua mi impegno eh no qua mi impegno amore mio questa cosa è da canale oh ma ti vincita così da canale ho battuto ball control ci sta vai vai grazie 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 mille per il prime e benvenuto bello mio grazie mille per il supporto io però ho bisogno di un taccuino hai capito che ti ho detto vincila vincila così la mettiamo la mettiamo sul canale ho vinto contro ball control ok e se Malikos ho perso contro ball control ok 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 metto lo stesso vabbè allora questa non si tocca la melma non si tocca manco per sbaglio sai che c'è l'unico problema se mi gioca a Lang Chang però ok un altro comunque sai che in Messico ci sta comunque è un miracolo in Messico ci sta una targa dopo i mondiali del 70 che recita il fatto che l'Italia non può perdere mai contro la Germania perché dopo la partita per favore posso concentrarmi si col grandissimo culo di spillo alto belli ops 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 ragazzi ragazzi mi fa ziliac su questo ho perso vero a b si se c'è c'è che mi chiede di essere spostato sneaky sneaky se lui mi fa ziliac su 2-4 io ho perso la partita perché a parte il fatto che la Polymoth mi serve per altre cose Sto match up Tipo per il 2-2 Sono troppi danni Non riesco a vincerla Ma questo là non è un detrack Che è un misto È un miscuglio bruttissimo Ma che è questa roba Che mano c'ho io pure Ok Sono abbastanza confuso Sei pure abbastanza sulla schiena No Ancora no Ti dicono che potrebbe essere No no è una crasi È a tutto Quindi c'è pure Malicos Non lo so Però è una crasi Buono spot per il meteoro Tizio 1 meteoro Allora il tizio 1 lo giochiamo sicuro Devo solamente capire quello che voglio fare Perché io sai quale ho paura di cosa? Quando fai tizio 1 meteoro Io ho paura del drago Tizio 1 meteoro Se il drago non attacco Se è malico se lo trad Ok Mi piace? Sì sì Nice Nice Bene Questo non ci fa paura Bello il tar creeper Cazzo Miglior top Deve potevo avere il tar creeper Cazzo Metto board dove riparticco già nel turno dopo Eh però comunque io lo devo togliere Eh lo so per il cubo Sai che non so se fare polymorph? Però polymorph Non puoi pingarlo se fai polymorph Sai quale è il problema qua? Eh draghetto prep o spell a 5 Ma penso che sia un problema sempre A prescindere dalla polymorph Sì Va bene La polymorph è meglio per il cubo Eh anche? Ma io non gli darò mai tempo di giocare il cubo a lui Ah la casa Dico in alcun senso E quindi Dopo questo possiamo Possiamo Dico ad Aldo questa Eeeh È una partita di merda Eh però è contro board controllo Vabbè dilla ad Aldo allora Non so se tu lo conosci oppure no Ma lui spacca i culi con il buratello bro C'ha le carte Fanno parte Di un giochino in cui lui crea delirio e arte Eeeh Giocatori sono altri Giocatori sono altri